io e fabio ci sfideremo in una gara di corsa esatto che vinca il migliore ce la metteremo tutta tre e allora per bella domanda arriveremo fino all'ingresso del bosco proprio ok perfetto sì 3 2 1 via corsetta leggera e lo vedo guarda che bella corsa di sera se la faremmo usire da bocca eh non lo so speriamo ecco il tramonto lo vedo sì forse il coraggio fabio ancora in leggero vantaggio su di me certo io sono il numero uno del top corri così in campo pure domani certo correrò subito con buoni steri sarà il traguardo che ti ferà viva sì poi se vediamo il sentiero hai visto? sì eravamo passati qua sì eccola l'ingresso perfetto sto vissendo decisamente stai vincendo il tramonto ci guiderà certo attenzione fabio sta per tagliare il traguardo basta l'oretto super è una parola attenzione ci siamo ci siamo e l'atleta fabio taglia il traguardo per primo c'è un solo vincitore fabio perfetti ciao a tutti un saluto anche da parte mia e dal tramonto come ha detto fabio ciao 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 ciao